Musica Nella notte è stato raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e i 27 stati membri dell'Unione sulla direttiva sul salario minimo proposta dalla Commissione nell'ottobre 2020. All'inizio del suo mandato, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva promesso uno strumento giuridico per garantire che i lavoratori europei avessero un salario minimo equo. La direttiva stabilisce un quadro per l'adeguatezza del salario minimo legale, promuovendo al contempo la contrattazione collettiva. I dipendenti della compagnia aerea Ryan erano annunciato uno sciopero per mercoledì 8 giugno. Tra i motivi dello stop spicca il fatto che gli equipaggi sono senza cibo, acqua e con stipendi tagliati. Per questo, quindi, lo sciopero rischia di paralizzare i voli in Italia per ben 4 ore, nella fascia oraria dalle 10 alle 14, dove a fermarsi saranno assistenti di volo e piloti. I sindacati Filt CGL e Wills Trasporti hanno spiegato che utilizzare lo sciopero come arma è solo la prima di una serie di azioni che riguarderà tutto il periodo estivo, dal momento che vi è una marcata impossibilità di aprire un confronto con la compagnia di volo per risolvere le problematiche del proprio personale. Secondo le più recenti stime dell'Istat, il prodotto interno lord italiano continuerà a crescere sia nel 2022, con un aumento del 2,8%, sia nell'anno successivo, dove l'aumento previsto sarà del 1,9%. Anche se il PIL ha avuto un calo rispetto al 2021, ciò che ci si aspetta nei prossimi mesi, sottolinea l'Istat, sono prospettive con alti rischi a ribasso, come nuovi incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale, un aumento dei tassi di interesse e anche le aspettative per famiglie imperese potrebbero subire un pregioramento. La crescita dell'inflazione a causa del caro energia, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, dovrebbe proseguire ancora per qualche mese per poi attenuarsi, anche se le tempistiche sono ancora incerte. Ciò nonostante, continua l'Istat, se le pressioni per il rialzo dei prezzi della materia prima resteranno contenute, nonché del petrolio, nel 2023 l'inflazione attesa potrebbe essere in parzale diminuzione. La Società Internazionale di Investimento con approccio digitale Money Farm ha condotto un'indagine riguardo il costo di mantenimento di un figlio fino al compimento dei 18 anni d'età. Ciò che è emerso è una spesa che si aggira intorno ai 139.500 euro. È chiaro quindi che diventare genitori oggi è un'impresa non da poco, con un impegno economico sostanziale a cui bisogna far fronte. L'indagine di Money Farm ha calcolato la stima sulla base di più di 150 tipologie di spesa, tra cui la mensa scolastica, il dopo scuola e le attività sportive. Ma il picco si raggiunge nella fascia d'età tra i 15 e i 18 anni, dove tra paghetta, corsi d'inglese e sport la spesa richiesta è di circa 20.000 euro. Grazie. Grazie. Grazie.